Due serenitani hanno molestato e minacciato un avvocato per convincerlo a far rimandare uno sfratto. Un sessantenne di Agropoli e il figlio 39enne, entrambi già noti alla forza dell'ordine, sono finiti in manette. I carabinieri della sezione del quartiere di Posillipo a Napoli li ritengono responsabili di tendata estorsione e di atti persecutori ai danni di un professionista 51enne incaricato di seguire il loro sfratto da un locale commerciale dove c'è un centro benessere. Il GIP ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Proseguono le indagini da parte degli inquirenti.